ora dovrebbe per cavoli eccola qua specializzato specializzato finali finali nove bibite nove bibite bell'ambro botto ragazzi allora secondo colpo ti prego dammi al tuo forno alto forno questi zombie di chi li amo morite figli di troia e ce ne andiamo che cazzo fa mi sa che qualcuno si è buggato eh mi sa mi sa è non ne sono sicuro però ok ragazzi eccoci comunque nel frattempo sono andato a rivedermi il tutorial su come cazzo si faceva quella cosa e semplicemente hanno detto attiva quale trappole tesla e tipo la sopra dovrebbe liberarsi una cosa tipo non so dovrebbe tipo lì spigionarsi un pezzo tipo e noi dopo dopo nel senso di no 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 ok noi tipo adesso dovremmo semplicemente andare qua sopra e prendere il pezzo cioè far così e prendere il pezzo ma non ha fatto nessun pezzo ah la dov'è ma vaffanculo la dov'è il pezzo cambia ragazzi il pezzo cambia cazzo ma vaffanculo ecco perché non capivo dov'era ma vaffanculo però qual'è il teletrasporto esatto ah è questo ma vaffanculo ecco perché non capivo perché il pezzo attenti attenti anche alle quelli che ascoltate il pezzo non spawna sempre nello stesso punto figa vaffanculo ecco perché non riuscivo a capire cioè facevo tutti i procedimenti non capivo e il pezzo là non è il classico spot quindi dobbiamo prendere questo quindi ragazzi attenti sempre nel cielo perché cambia eccolo qua fatto figa vaffanculo facciamo una scimmia comunque facciamo una scimmia costruiamo qua vaffanculo come cazzo si faceva porca troia eccolo qua e finalmente ragazzi ci abbiamo anche noi boom 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 morite tutti figli di troia dove siete testi di cazzo spawbom boom boom ok basta basta no ti gasa troppo regà ti gasa troppo cazzo quindi abbiamo capito anche come utilizzare quella merda ah oh cazzo avevo fido colpi attenta adesso gioia ho fido anche lo scudo ho fido anche lo scosco lo scudo ho scasco scasco ok e dividiamo che va massile dovrebbe essere fine del round quanto è durato po' no no ok non è fido però qua c'è no non ce l'ho ok quanto è durato po' che è il round ah non c'ho non c'ho più i i cosi attento non c'ho più il coso del video della vedova c'è una buona cosa andiamo di la no anzi prendiamoci lo scudo prendiamoci lo prendiamoci lo scudo e prendiamoci anche la finalmente una spada decente un arco decente basta puoi chiamarla spada oh ma che cazzo c'ho una malattia la chiamo lo chiamo spada non capisco perchè tra l'altro c'è se muoio adesso è davvero una rusicata perchè ho utilizzato 9 bibite cioè se tipo morissi adesso come un pirla sarebbe una rusicata incredibile perchè ho 9 bibite ho 9 bibi 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 allora prendiamoci qua ottimizziamo un po' questo qua dai così giusto per spizzi usiamo un po' quello e non sempre lo stesso così anche almeno voi vedete anche un gameplay sempre diverso quindi gioia pensa sempre ai fans allora la cassa è no andiamo a rispondere ad un panzer ah no un cane un cane eh si basta però i cani madonna quanto sono fastidiosi figa i cani sono davvero cioè su the giant io muoio sempre per colpa dei cani sempre sempre ok ma figa anche la ah bella macchina da guerra vai punti facili punti facili qua c'è un fusibile che cazzo l'ho già usato cioè devo andarlo usare per questo vi dico sempre oh cosa c'è lì cosa c'è lì per questo vi dico sempre ragazzi il fusibile usatelo sempre è possibile che trovate usatelo sempre ragazzi ok però eh le munizioni possiamo anche prendere adesso ok le munizioni andate scanto gravitazionale pronto bom non abbiamo preso nessuno bom ci sta in moto bom oh madonna mi di spish spish qui lo fisi canadese io st 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 distruggere con l'abominio ehm c'è l'accelo c'è l'accelo eccolo la il coso il mostro non l'ho preso non l'ho preso non l'ho preso vieni qua bravo pom pieno preso in pieno spostiamo un attimo che richiamo di nuovo sempre la pom spariamo in faccia al porco meccanico oh ragazzi oggi sono un attimo zitto ma più che altro sono un po' concentrato sono un po' concentrato per abbattere sto cazzo di panzer mi sa che l'ho abbattuto mi sa eh sì 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 è andato panzer è andato quindi cioè avete visto che tutto sommato ah bella la bomba avete visto che tutto sommato con il con il l'arco si fa facilmente il panzer ehm dai che ne diciamo se andiamo di là ci facciamo anche un foglio di casse che ne dite conto tottotò cerchiamo di non morire come dei coglioni bod Nature oddio meno male Wonderspieer è non disponibile durante l'accensione del razzo quindi abbiamo capito che la sta facendo il razzo quindi quando arriveremo noi è pronta Stand up non è che stiamo per morire no no ma va no vedete che ce n'ho fatto un cazzo non fa più un cazzo sto cazzo di arco Fa schifo E lezzo Penzola Ah Tra l'altro ragazzi Sono le Esattamente Ma ve lo dico Aspetta Sono le Luna meno un quarto Di giovedì E io a luna E un quarto Devo uscire di casa E andare a prendere Noemi Porca troia Quindi c'ho ancora mezz'ora di gioco E mi scazzare davvero tanto Tipo mettere pausa Andare a prendere Noemi Mangiare Per chi si chiede Se chi è Noemi È tipo mia sorellina piccola Di undici anni Che ci avevo fatto anche di video Sul cane Quindi se volete andare a vedere il video Con noi C'è pure nel Vi lascio il link in descrizione Quindi non vi pure Figa la cassa è un po' più imboscata C'è no Mettimelo un po' so un po' più Dove gli zombie Mi chiamato facilmente tanto Vecci Vecci mi potrebbe servire utile Io vorrei comunque la regala Bella liquidivinium Ne sto prendendo davvero tanti BRM no Prendiamo un attimo questo E cos'è Antidiesel chimica Ecco questo volevo Bella un botto Ma le munizioni non sono più un problema BRM BRM no grazie No veramente vorrei la Regan Vorrei davvero la Regan Mi farebbe davvero comodo Più altro non voglio un altro fucile a pompa Con il Vorrei un altro fucile a pompa Con un altro forno Che Un po' è sempre uguale Vorrei tipo la Regan Che Così Aiuta un po' Ho capito Mi sa che mi devo tenere il breccio Mi sa eh Comunque Comunque state attenti ragazzi Che quando avete Calcio del mulo Se cambiate la Cioè se Io non so se anche voi Ma io sono tipo abituato Davvero tanto a far triangolo triangolo Sempre Quando gioco faccio sempre triangolo triangolo Se voi fate triangolo triangolo Vi capita un'altra arma Perché avete calcio del mulo Dovete far triangolo 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 Tre volte Per aver sempre in mano la stessa arma Ho deciso Largus Basta Madonna Vabbè Ho capito che qua Ci morirò Weaver Dai Più che altro Io non voglio far round Troppo lenti Qualsiasi arma va bene adesso Dai BMP Dai A posto Facciamoci un roundino Qua Easy Sempre attenti Al coso del Razzo Se magari vuole partire Quindi sempre attenti A te Ricordatevi questo Particolare Ragazzi Attenti sempre al razzo Quando vuole partire Che dovete scappare Tipo di corsa Qualto forno è andato Il cane dov'è Perché qua c'era un cane Scusatemi davvero tanto Se sentite questo rumore di sottofondo Che è il È la play Che si sta surriscaldando Perché troia Comunque ragazzi Scusate un attimo Giro un attimo la tele Che tipo Ok Ho girato un attimo la tele Che tipo c'era la luce contro del sole Che non mi faceva vedere un cazzo Comunque vi faccio vedere L'alto uso Della Del gravity spike Se voi al posto di fare R2 Fate L2 E lo mettete qua sotto Cioè lo mettete lì per terra Vedete che tipo fa Risucchiato Comunque io sento sempre certi Ah ok No era il cane che spunava Sento sempre certi rumori Dico Ok non dirmi che sta portando il razzo Mi cago sempre addosso Oh Oi 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 Ah ricordatevi che quando Fate quello Che quindi usate L2 Al posto di R2 Dovete andare a riprendere Dovete andare a riprendere Ricordatevi Guardatevi andare a riprendere Ho finito lo scudo Ho finito lo scudo Ho finito lo scudo Ok HVK No grazie Bella macchina da guerra Quindi ragazzi State sempre attenti Se girate di là State attenti Sia al fatto del Sia Oh sta lagando Mi sta lagando Mi sta lagando Oddio mi sta lagando Mi sta lagando Cazzo Mi sta lagando Mi sta lagando di Cristo Ancora E mi sa che non Non riesce Mi sa che non riesce A reggere il cazzo Della macchina Della guerra Non il cazzo Cioè non riesce a reggere La macchina Della guerra Della guerra Non so se avete visto Cioè non so se non siete Accorti Ma mi stava davvero lagando Orso finalmente Da almeno me ne posso andare È stato un round Abbastanza frenetico È stato un round Tanto mi sposto È stato un round davvero Abbastanza frenetico Che ho rischiato davvero tanto Soprattutto perché Volevo farmi un paio di casse in più Quindi Cioè nonostante io ce l'ho An armi buone Però volevo farmi delle casse in più Ho rischiato Quindi state attenti ragazzi Tipo anche adesso Non c'ho manco lo scudo Dove andare a riprendere Vabbè Facciamoci più che il possibile Col WMQ Cioè più alto Cerchiamo di finire i colpi del WMQ E poi possiamo andare a far casse Ok Proprio abbiamo Bomba Bomba Andata Andiamo Ok No ci riprendiamo lo scudo Vediamo dove è sponata la cassa Ok Più alto Ora che non c'ho Figa Il Widow 1 Non mi piace per un semplice motivo Se voi lo utilizzate Dov'è? Ah è qua sopra Se voi utilizzate il Widow Cioè se gli zombie vi killano Mentre utilizzate il Widow Cioè se gli zombie vi attaccano Prendete le granate Perdendo le granate Dove cazzo è? Ah è qua sotto E perdendo le granate Non riesco più a fare l'ista swap E quindi a cambiare arma Devo fare triangolo E ci metto troppo Troppo Poi sono abituato sempre a fare l'ista swap E E' un po' rischio Succiac Qua sotto la cassa No Ah po' affanculo Mi sa che stava proprio sotto sotto Stava proprio sotto sotto Ok Tutto il forno Easy Mi fermerò Quanto decido io No Non è finito No Non è finito Oh Cristo Oh Cristo Oh Puttana troia Puttana troia Cazzo Merda 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 Tra l'altro non c'ho nemmeno Antitesi alchemic Cioè non c'ho nemmeno In bella vista che Ce l'ho lo scudo Che Pagno Cioè sono morto come un coglione Perché non so neanche Cosa stavo cercando Waffa Ok Oddio Merda Meno male Che c'avevo Il Prendimi il giac C'avevo Calcio del mulo E l'unica bibita che ho perso Cioè l'unica arma che ho perso E' quella non potenziata E neanche il L'arco Figa Meno male Almeno quello E modi bibite Mi vorrei riprendere assolutamente Quello che corri veloce Per forza Intanto facciamo una bella cosa Eh colpa del widow wine Regà Cazzo Io widow wine Non lo sopporto per quello Perché mi toglie le granate Per quello non riesco a usarlo Cazzo E' utilissimo Però io Essendo abituato con l'ista swap In quel caso avrei fatto l'ista swap E avrei usato l'arco L'avrei uccisi Credo che no Ah tra l'altro c'ho le scimmie Quindi se devo usare le scimmie posso I russi combattono fino all'ultimo Tipo tiramone una qua così tranquilla Ci spostiamo un attimo tutti Oh Madonna il cane Madonna il cane Siamo tipo la bestemme Anche in fiume di sangue Facciamo un'iterica Che palle però figa Cazzo svegliate C'è un'ordine di vivi Te lo spiegate così No Oh 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 Vado Andiamo avanti C'è un'ordine di grande Poi Vado E' molto C'è detto Vorrei arrivare Vado Easy Non vorrei fare un toppo alto Che poi vabbè mi rompo anche io il cazzo Dov'è un po' giocare a zombie Eeeh Vediamo quanti ne muoiono Quasi tutti per alcuni no E' quello che mi rado il culo E' quello alcuni no che mi dà fastidio E' quello alcuni no Che mi dà fastidio Oh scusa ce l'ho ancora Adesso Oh boom Ok Ok Vorrebbe essere finito Sfruttiamo la letargia Tutto cazzo dura Ah si effettiamo questo è finito Ok Andiamo a prenderci sulle altre due bibite Mi prendo la speedcola e La speedcola il Come si chiama l'energia Cioè più che altro non ci ho sbatto adesso ad andare al Wunderfitz A cercare le bibite che vorrei davvero Quindi mi prendo questa Anche se prendere qua l'energia adesso è un pelo rischioso Ormai Cazzo dobbia rischiare ancora Dove c'è anche il coltello Scusi A sprecare soldi proprio Non c'è niente da fare Eeeh Ah qua c'è il paga punch Però non c'è uno da paga panciare Quindi no Niente Eeeh No Aspettiamo un attimo da quanto sto registrando Oh oh Sono in avanti Boom Non devi toccarmi No non la coltelliamo C'è un po' di granate Di grado Boom Bella oh bella c'è il Scanto gravitazionale Ok Cioè mettiamolo giù Come fa tutto a lui Ok Ma è il panzer quello Ho visto tipo qualcosa balzarmi in faccia Oh 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 sì Ah io dicevo ma perché non mi fa sparare E poi ho detto ah ma c'ho le mie pressioni in mano Gioe rischia sempre Perché è il suo mestiere rischiare Che fai nella vita a rischio Cosa Sto rischiando speciali Così Che cazzo sto dicendo Sto live sta degenerando comunque Sta davvero degenerando Comunque no L'unica cosa che mi piace di fare i live su zombie E che porca puttana per tipo una settimana Sono posto qui video Figa è la cosa più bella cazzo Che vi carico tutti i giorni questi Senti tranquilli posso registrare i miei video tranquilli Siamo a 16 minuti ragazzi Insomma allora un 25 Facciamo dai facciamo il 25 dai Volevo tipo termina sta qua Posso evitare questo episodio Mi terminano qua però no dai Facciamo un altro Più l'altro spero che non arrivi il panzer Non ho idea non ho idea se arrivano Comunque io direi anche di utilizzare la tappa elettrica adesso Per sicuro Cioè giusto per farmi fare un po' più di Cioè fare Usare soldi e non usare munizioni Anche se ho comunque Sucio altitesi alchimica Perché mi cambia un cazzo Sarei munizioni Anzi Quest'orda qua Li uccidiamo con altro Alto forno è davvero devastante Sulle maker Sulle brecci Bella 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 Cazzo Ah pure i saldi Siamo qua Tiriamole lì E ora iniziamo a spammare i colpi come dei maiali BOM SHBOM 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 L'ultima volta che ho fatto questa cosa Che continuavo a sparare colpi Sparare colpi Con il Marqua l'avevo fatto Cioè con l'arma del Marqua Il Marastagua L'avevo fatto a round Ottanta La partita Ottanta round senza il Juggernaug Che il Wagn ancora non me l'ha caricato Non capisco perché Mi sa che lo caricherò io La partita avevo fatto Ottanta round senza il Juggernaug Wagna Che non No vabbè C'è tornato a Wagna Semplicemente a round Ottanta L'ottantesimo round Era il round delle munizioni Allora ho detto Bella un botto C'è il round delle Degli animaletti Che gli danno le munizioni Allora ho iniziato a spagare Tutti i colpi Tutti E C'era un punto ho detto Ok ora vado in after Cioè vado in modalità Polpo life E faccio fare tutto a civil protector Che comunque i raps E le palle Ti rischi di morire Con le palle E quindi ho detto Vabbè faccio fare tutto a civil protector Così poi Oh Così fa tutto lui E io Sono semplicemente in polpo life E guardo lui cosa fa Ok ragazzi L'ho fatto E il civil protector Ha chialato l'ultimo raps E non avevo idea Di dove cazzo erano le munizioni E l'81esimo round Sono morto E mi sono preso poi il giag E ho ricominciato E nulla ragazzi Dai Questo episodio Che mi sembra sia il quinto È finito Ora registro l'ultimo episodio Che vedo andare per forza A prendere Noemi Quindi ragazzi Lasciate un like Un bel commento Ci vediamo sempre domani alle 2 Da giù è tutto Bella Faccio vedere un po' Ti facciamoci il coppetto di zombie No 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 Questo no cazzo Questo no per niente figa Continuiamo Continuiamo i perterriti Pop Mia là Mhm Mhm